Sì, dove c'erano quelli? Arrivo? Ho fatto la stasi e ho ucciso il Kha'Zix di... ...focola... Eh sì, va a arrestare DUPLE ACCESSIONE! Per l'anno, un po' il cara Come? Morda Tente fatto Prendo E' là Yes Quella squadra nemica lo ruba, ragazzi Ma quando mai? Cosa nella sua esistenza? Nooo, ho mancato il video Uh, uh, uh 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 Well open Vai, vienici, vienici Questa è Questa è Questa è Stai scherzando? Ma non so Eh FF medrina è ritorno Penso che possa stare questo come medrina, no? Ragazzi, mi è pensato Analizzati tutto Ma sì Dai cazzo, l'inghige al 2 è stato bello Cioè lì Il... Ho preso io il drago Dai cazzo Ma ci arreguano tutti i uggeri Oddio no 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 non dobbiamo non voglio lasciare così signor signor arrivo non ci vedo non è mostro non ci vedo aiuta aiuta aiutami oh bella shadow bella 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 Grazie a tutti.